ok raga eccoci qui, facciamo il video prima così dopo mi riposo e sono a posto vi voglio dire seguitemi, quando vedete mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella bella a tutti i ragazzi, ora mi assai e ho fatto la doccia, mi lavai i capelli, tutto il corpo tutti i giorni io mi faccio la doccia, loro sono scemi o puzzano o non capiscono niente non fate i scemi, fate i bravi, state con le scarpe dritte e non fate i stronzate in giro e chiudete la bocca, io vi voglio bene, io voglio bene i miei fan, io sono il loro idolo ho detto a voi raga che iscrivetevi al canale, attivate la campanella bella a tutti i ragazzi ok a vostra l'ho detto quando ho cominciato, vi voglio dire che facciamo questo video che facciamo il quiz, vero o falso, e parliamo anche con il robot, trire in scorreggio e altre cose lo faccio ora con questa maglia e con i padroni bucati, vi voglio dire, saluto Paolo, Silvia, Claudio e Gloria Silvia Mary e Genever, quell'altro con la J, Luci del Nord e con la Icas io sono qua, facciamo la mossa, John Zinaioio Melenzini e il cellulare non lo apro ora, lo apro o a luna o in duco lontano quando cala in quella ora, prima e mi potete chiamare, mando i video messaggi, i video saluti, i vocali, in privato così faccio contenti i fan, io sono famoso, sono una leggenda, sono uno youtuber, sono il dio di youtube, il re di youtube numero uno e comando io loro devono stare con la bocca così o zitti, non devono parlare lo sapete chi? devono parlare solo i fan, i miei fan che io voglio fare un abbraccio a loro e siamo lontani vediamo in discoteca o quando faccio un raduno o venite a quest'estate o inverno o ci vediamo in un posto facciamo le foto, a firmo, un video saluto che io sono italiano, calabrese, dialetto ci sono persone che mi capiscono e la mia famiglia sta facendo mangiare ora che a sveglia sta girando e niente raga e metto pausa e ci vediamo tra poco, dai ora mi sono fatto la doccia e mi sono lavato i capelli vedete i capelli strani? mi sono fatto la doccia io tutti i giorni mi faccio la doccia con shampoo normale con shampoo clear io sono pulito voi o siete sporchi o puzzati che non capite niente andiamo avanti, dai raga ciao belli vabbè, andiamo ok, eccoci qui raga, ce l'ho qua il cellulare non lo apro ora lo apro a quella ora là che ti ho detto questo qua così rispondo a tutti ne devo anche pubblicare le foto ah raga, io voglio dire mandatemi i pacchi qua sotto trovate il link di Amazon tutti i giorni lo metto ho quel postino o con il correre mi mandate qualcosa scegliete ci sono tante cose là sotto c'è quella cosa che avete voi che giocate ci sono tanti tipi di cose che ho messo sul link di Amazon la mia posta andate, toccate la freccia aprite il link di Amazon andate lì e scegliete o sotto o sopra o andate sotto ci sono cose buone e sopra ci sono che tutti i giorni metto le novità così voi mi mandate io faccio un video così ho le storie su YouTube così mi mostro che cosa mi arriva come fanno quell'altro YouTube lo faccio anch'io ok? vi voglio bene baci dai i love you e tanti auguri a voi tanti auguri a voi tanti auguri a tutti tanti auguri a voi buon compleanno a quelli che fanno il compleanno ciao belli io ho 29 anni sono di Motta San Juan provengine di Reggio Calabria e e niente dai basta così che mi piace spero e basta Fabio Rovazzi dopo Fegs Jax e altri cantanti l'ultimo Briga anche la mia infanzia dei cartoni animati i cantanti i film la serie tv e altre cose questi qua le facciamo la prossima e solo ho detto un poco di cantanti quelli che mi piacciono pop remis tutti i tipi dopo ho una diretta o un video così dico quelle che mi piacciono e vabbè dai basta andiamo ok ecco ecco attiva i suoni i scorreggi ecco attiva i suoni i scorreggi ok ecco ecco scorreggia ecco attiva i suoni e scorreggi ecco apri quiz ecco una selezione di quiz per te ok per continuare imposta una posizione per il tuo account Amazon sul sito web nella scheda preferenze della sezione i miei contenuti e dispositivi ecco apri vero o falso ciao benvenuto nel gioco vero o falso sono qua si perfetto iniziamo i vegani non escludono dal loro stile di vita tutti i prodotti di origine animale per esempio mangiano il formaggio vero o falso vero esatto ecco la prossima domanda il sismografo è lo strumento che viene utilizzato per registrare i fenomeni sismici vero o falso vero Gionzina Gionzina Gion Menenzini esatto ecco la prossima domanda l'ornitorinco depone le uova vero o falso vero esatto ecco la prossima domanda 35 anni era l'età media nell'antica grecia vero o falso vero tutto vero esatto esatto ecco la prossima domanda la città natale di Giuseppe Garibaldi inizia vero o falso vero esatto Martina Navratilo ha conquistato l'ultimo dei suoi titoli al grande slam quando aveva quasi 50 anni vero o falso vero esatto ecco la prossima domanda francesi e messicani hanno combattuto la guerra dei pasticcini vero o falso vero gli occhi si chiudono e si aprono anche a voi non solo a me esatto ecco la prossima domanda gli occhi del camaleonte sono indipendenti l'uno dall'altro vero o falso vero ecco stop chiudi stop mi dispiace ma non ho capito aspettate raga aspettate ok ecco che ora è? è mezzogiorno e 24 minuti in questa ora raga in questa ora sto facendo il video per voi fate i bravi non fate i scemi iscrivetevi al canale attivate la campanella bella a tutti i ragazzi un like seguitemi quando vedete ok ecco che tempo fa molto sanno anni in questo momento a notta San Giovanni Italia ci sono cielo sereno e sole con una temperatura di 35 gradi celsius le condizioni meteo resteranno stabili durante tutta la giornata con una massima di 35 gradi e una minima di 25 gradi in questo momento a notta San Giovanni Italia la temperatura è di 35 gradi celsius per stasera la minima prevista è di 25 gradi ecco che fai? rispondo alle domande e imparo sempre cose nuove ecco io chi sono? sono Alexa un assistente personale intelligente sviluppato da Amazon ecco io chi sono? Enrico Pasquale la praticò mi dispiace non lo so ma indovina che sono è attiva vuoi aprirla? no 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 ed volevo dire mi conosce ecco mi conosci? sto parlando con Enrico questo è l'account di Enrico perché ho detto prima quell'altra cosa? volevo dire questo vabbè ecco tutto a posto alla grande ecco come va? bene grazie guardavo dei video degli orangotangi sono animali proprio buffi e in questi giorni si celebra la loro giornata di vita mi dissocio io che ho detto ho scoperto che orangotangi in malese significa uomo delle foreste ed è infatti lì chiamano vivere io mi dissocio raga ecco saluta a tutti ciao ecco conosci youtube? secondo wikipedia youtube llc è una piattaforma web 2.0 ecco ok ho capito stop chiudi stop ecco saluta tutti i fan purtroppo non trovo la risposta alla domanda ecco ecco ora raga io finio ora questo video lo chiudo voi seguitemi e quando vedete mettete mi piace iscrivetevi al canale attraverte la campanella bello a tutti i ragazzi si deve volevo dire che si deve fare la doccia tutti i giorni voi e non fate la doccia tutti i giorni non capite e puzzate o siete scemi che io tutti i giorni me la faccio quando lavoro in giardino la mattina azzaparà terra fa caldo o qua a casa a aiutare io quando vengo vado a fare la doccia mi metto i vestiti puliti e sto e vado sopra o mangio prima dopo vado sopra mi riposo scendo sotto mi mangio un gelato a sera mi guardate lezione mangio dopo faccio i saluti tanno sopra come sempre questa è la giornata quella che faccio volete 24 ore 24 e la facciamo anche la diretta sopra va bene arrivano nuovi contenuti state tranquilli va bene è la mia famiglia che sta facendo mangiare e io vi saluto chiudo qui sono il dio youtube il re di youtube il numero uno comando io sono una leggenda sono famoso e sono uno youtuber comando io fate i bravi ciao raga vi saluto tutti ci vediamo alla prossima ciao ciao John Zina John Zina andiamo andiamo